Ciao a tutti, siamo Miriam e Silvia, volevamo inaugurare il nostro primo video con un romanzo che c'è particolarmente a cuore e che abbiamo appena concluso, si intitola Only Slayer di Barbara Shire. Prima di parlarvi delle nostre opinioni a riguardo, vi daremo una breve schia tecnica del libro. Allora, Only Slayer è un romanzo urban fantasy, conta 433 pagine e lo potete trovare in tutti gli store online, ha un prezzo veramente basso, 99 centesimi le buche e 10,90 euro circa il cartaceo. Per difendersi dalla maledizione che li perseguita da centinaia di anni, gli eredi degli antichi clan giapponesi vivono segretamente a Fairport, stato di Washington, combattendo una guerra silenziosa contro i demoni Oni e proteggendo il vincolo della coppia eletta che tiene il feroce Oda Nobunaga, prigioniere degli imperi. Jake Medowell è il Nobunaga scelto per suggellare il nuovo vincolo e per farlo deve sposare Asami Williams, la Mitsuhide che gli è stata destinata, l'unica donna che abbia mai amato, ma Asami è fuggita mettendo in pericolo gli eredi e spezzandogli il cuore. Sullo sfondo di una guerra senza fine, Jin e Asami si ritroveranno di nuovo insieme, ma nulla sarà più uguale a prima. Animata da una fredda e letale sette di vendetta, Asami coinvolgerà Jin nella sua battaglia personale. In un mondo dove nulla è ciò che sembra, fra travolgenti passioni, tradimenti e oscure profezie, scopriranno che nonostante tutto il dolore che le ha divisi, l'amore che un tempo le legava non è andato completamente perduto. Prima di cominciare a parlare del romanzo vero e proprio, parliamo di fermarci un attimo sulla copertina, che diciamo è un biglietto da visita del romanzo. Per esempio, io, non so tu, se la copertina non mi ispira per niente, difficilmente comincio il libro. Proprio è una cosa chimica, penso. Non so, tu? La cosa è un biglietto. No, la cosa è un biglietto perché alcune volte guardo la copertina e dico non lo leggo perché fa schifo. Altre volte dico che bella la copertina e invece fa tipo il libro. Sì beh, il mondo dei libri è abbastanza, può essere magari un libro che ha la copertina abbastanza orrenda, sia gnocco come il libro, se c'è magari uno che ce l'ha bellissima. Non posso fare citazioni, non posso citare il libro in questione, però c'è stato un caso in cui un libro veramente ero innamorato della cover e poi si dico è stata una delusione enorme, però vabbè, ogni tanto. Di solito però li becco sempre fantastici. Esatto, esatto. Quindi ogni slide in questo caso ha la copertina che mi ha fatto impazzire subito. Esatto, come del resto del libro. Ok, quindi questa è la copertina, appunto c'è la protagonista che è Asami, anzi Alex. Infatti mentre Asami era una ragazza normale, con capelli lunghi, dolce, innocente. Esatto. Alex è più dura perché ha sofferto e ha patito molto. Ha metà testa rasata, la parte destra e sempre la parte destra è piena di tatuaggi, questo può vedere anche sulle braccia e un po' qui sul bacino. In mano tiene una katana, che è una tipica spada giapponese. Sì, lo sfondo è molto cupo. Scopriremo poi il significato dei tatuaggi e anche del perché Alex abbia deciso di rasarsi la metà destra e tatuarsi la parte destra del corpo. Non sarà una cosa molto positiva purtroppo per lei, perché ne è passate veramente tante. Penso che sia uno dei motivi per cui è uno dei personaggi veramente che si amano molto di questo libro. Infatti, infatti. Allora, i personaggi in questo libro sono veramente veramente tanti e anche i personaggi secondari sono descritti bene, hanno i loro pregi, alcuni veramente pochi, e i loro difretti, però comunque sono completi. Allora, volevamo dirvi il nostro personaggio preferito. Sì? Allora, io non ne ho un personaggio preferito perché mi piacciono più o meno tutti. Mi piacciono Jean in particolare, però anche il fratello Ben e ovviamente la protagonista femminile e Alex. Anch'io non ho un personaggio preferito perché sono così, 50-50 tra Jean e Alex. Non Asami, perché Asami ne abbiamo visto un pochino. Esatto, anche perché... È il passato Asami. Non c'è, esatto. C'è qualche stralcio della sua vita passata. Sì. Quindi Asami è più dolce, più innocente, subisce, invece a un certo punto Asami si è rotta di subire, di soffrire e si è trasformato in Alex, cambiando nome, identità, i modi di fare, eccetera. Quindi Alex è... E vai, cazzo, sì! Cazzo! E luce fu. E luce fu. Beh, Jean, io sono innamorata, è il mio fidanzato di questo libro. Come tanti sanno chi mi conosce, io ogni libro mi trovo un fidanzato nuovo. In questo libro è Jean. Quando lo troviamo è abbastanza depresso perché deve sposare Beth, che sarebbe la sorella di Alex. All'inizio non si sa, però Alex e Jean sarebbero dovuti diventare amorete moglie. Solo che all'improvviso Alex si è andata a gambe lasciando Jean in un bilietto di depressione. E quindi, poverino, è fatto un sacco pena all'inizio dell'interromanzo perché era veramente depresso. Tutti allegri attorno a lui è un poverino depresso che non voleva festeggiare. Però ha un temperamento forte e lotta per le persone in cui amo. Infatti mi è piaciuto moltissimo. Lidica sempre col fratello. Sono il cane e il gatto. Però in fondo si vogliono veramente un gran bene. Poi abbiamo Ben, che è il fratello di Jean. Tra parentesi, visto che esistene Jean, mi tengo Ben. Che è un festaiolo e si diverte, sì, oltre che a litigare mio fratello, mi ha detto lei. Ben è anche un festaiolo, si diverte a bere. E cerca di tirare sul morale a Jean, sempre. Sì, quando non lo butta giù. Esatto. O gli ho preso a bere. Ben è segretamente innamorato di Sam, che è anche l'amica di Alex. Questa cosa la scopriremo più avanti. Sam ha una figlia di nome mia e lavora dove lavora Alex. Da Kane. Chiesa Flash. Esatto. Visto che l'ha nominato, parliamo di Kane, che è il proprietario del Blue Hell. E ha una specie di relazione con Alex. Ovviamente è abbastanza impiccione come personaggio, perché nonostante Mezzomonte vi dica stai fuori da varie situazioni, lui vuole entrare nel merito. Però comunque ha salvato più volte la situazione. Esatto. Quindi se non ci fosse stato fatto, lui forse non sarebbe arrivata così la storia. Forse si è venuta meglio. Altro personaggio importante, che non abbiamo nominato subito, lo volevamo aspettare, è Alex Asami. Esatto. Mi è piaciuta moltissimo, perché è forte, nonostante sia in realtà molto, molto fragile e soffre moltissimo. Parte nel romanzo con uno spirito, però non conta che l'amore arriva e distruggi i suoi piani apparentemente infallibili di vendetta. Di chi deve vendicarsi? Alex? Taro, che si scopre poi essere il fratello, perché in parte inizio si legge che Alex sta cercando questo Taro, però successivamente si capisce che io credevo fosse suo fidanzato. Ah no, era già fidanzato. Sì, però quando comincia il libro non sono fidanzati, sono passati tre anni da quando non è fidanzato. Ah, è il ciclo attuale, dici? Fosse il fidanzato attuale? Sì, siccome all'inizio non dice esattamente chi è questo Taro, non è che chi è Alex per me. No, esatto. Si, però siccome c'è Alex che corre un rischio abbastanza grosso, sperando che Taro venga in suo, tra virgolette, soccorso, io ero sicurissima che Taro fosse un fidanzato, tipo un principe azzurro. E invece, esattamente l'opposto, e infatti è l'antagonista di questa storia. Sono i personaggi più o meno principali, non li abbiamo detti tutti, perché sennò vi dobbiamo comunque il gusto di scoprire questo romanzo, però comunque mi sono veramente piaciuti tutti, anche Taro, sebbene sia l'antagonista, il cattivo della storia. Però anche lui ha... Sì, è completo, è ricco di emozioni, sentimenti, per quanto morbanti si siano. Sì. Quindi, insomma, siamo curiosissime del rileggere il seguito. Molto, molto curiosi. Perché appunto c'è un finale abbastanza. Sospeso. Sì, io ho sofferto molto. Cioè, speravo in un finale, e invece l'autrice, in due secondi, ha sconvolto tutto. Io ero tipo... E comunque... Wait, what? Comunque l'autrice mi ha scritto l'altro giorno fa, non preoccuparti che sto già scrivendo il sequel, quindi io ho fatto i salti di gioia. Stavo saltando per casa dalla gioia. Perché ho il terrore che finisse così, quindi... Ok. Anche se abbiamo già, bene o male, detto cosa ne pensiamo del libro, volevamo un attimo dire un po' le impressioni che abbiamo detto. Sì, parliamo tutta la situazione. Esatto. Allora, lo stile di scrittura mi è piaciuto un sacco, è molto scorrevole e non ci si annoia mai. Nel senso non ci sono buchi dove dici, non vedo l'ora che finisca il capitolo, o scene veramente piatte. Comunque c'è sempre un colpo di scena, un avvenimento che ti fa stare col cuore in gora. A parte che anche quel primo romanzo, Alice Gravenil, era uguale. Anche lì ho patito tanto. Vi ricordo perché c'è stato tutto il libro, esatto, non si baciavano mai i protagonisti e lì c'era la situazione perfetta, quindi uno ovviamente ti dice, è da chi si baciano? E invece no. Interruzione da parte di esterni, calamità naturale, eccetera, non si baciavano. Infatti ero arrivata al epilogo, che ero praticamente, trapicamente, praticamente rassegnata, tali non si baciano. E poi finalmente si sono baciati, quindi ho sospirato finalmente. Anche qui ci sono un sacco di colpi di scena, un sacco di situazioni che ti fanno arrovellare lo scopo. Vuoi dire qualcosa anche tu? E' un stile molto più maturo, rispetto a Alice Gravenil che magari era per un target più giovane, mentre Honey Slayer per un blocchino più adulto. E' una tecnologia molto avvincente, molto diversa dalle solite cose che siamo avvenuti a leggere. Una novità, diciamo. Io non avevo mai letto, nemmeno io, di giapponesi, comunque gli Oni che sono i demoni giapponesi, il modo in cui si devono uccidere e non, cioè, uccidendole poi si uccide anche l'umano, quindi non è facile eliminare un demone. Esatto, esatto. Perché uccidere il demone di per sé è ok, però sai che comunque devi uccidere anche una persona umana, quindi non è sicuramente facile come cosa. E cosa altro da dire sul romanzo? E' perfetto. Bellissimo. Per essere autopubblicato, infatti non sappiamo come mai autori di talento come Barbara siano obbligati ad autopubblicarsi. Mi sarebbe piaciuto vedere questi romanzi insieme a una bella casa editrice. Vero, vero. Perché non sempre, diciamolo, le case editrici pubblicano romanzi belli, perché alcuni dicono, beh, autopubblicati fanno schifo a prescindere, e invece i romanzi pubblicati da case editrici sono in automatico belli. Non è vero, perché io ho letto parecchi romanzi pubblicati da case editrici importanti che non mi hanno emozionata niente. Invece sto scoprendo sempre più col mondo degli autori emergenti romanzi che mi fanno sospirare e che vorrei leggere e rileggere, anche perché lei, per esempio, ha detto due volte Alice Gravenil. E' vero, era bellissimo. E' stupendo. Non annoia mai? No, decisamente. Lo stile è perfetto. So che qualcuno su internet, adesso mi viene in mente, si era lamentato degli errori di battitura, eventuali refusi, eccetera. Non tutti gli autori pubblicati magari possono permettersi comunque. Rendito. Esatto. E comunque anche sul, sempre, parlando di romanzi di case editrici, ci sono anche lì rifusi, quindi scappano, l'errore ci sta. Non stanno assolutamente con la lettura, magari c'era una, è al posto di una, però sinceramente... Cose che capitano alla fine... Non bisogna giudicare il romanzo in base a quegli errori che sono veramente pochi e non li ricordo neanche. Nemmeno io. Quindi uno non può mettere magari un voto basso solo perché trova qualche rifuso. Ci sono dappertutto. E' una novità insomma. Ehm, beh... Però c'è tutto. Ho una linea. Però c'è tutto. La chiusura. Quindi Barbara, un appello a te. Sbrigati a scrivere il secondo perché stiamo qui. E' così. Che non vediamo l'ora di... Leggerlo. E parlarne. Sempre un messaggio per Barbara. Spero a ti abbia fatto piacere che abbiamo scelto il tuo romanzo come primo romanzo per questi video. E spero vi sia piaciuto un po'... Spero... E' stato faticoso farla. Perché penso che se avessimo dovuto mettere tutto quello che abbiamo fatto sarebbe un film di due o due. Recessione di cinema. Esatto. Perchè ovviamente è difficile fare le recensioni con lei. Ride. Disturba. Interrompe. Ci sono i gatti che saltano in cielo per la sala. Quindi non è molto... Igienico. Cosa c'entra? Che scema. Quindi speriamo di riuscire a farne un'altra presto. Esatto. Faremo maggiormente autori emergenti. Sì. Perché vogliamo assolutamente che... Vengono conosciuti. Esatto. Per cui io direi che... Bossa. Ciao ragazzi. Ci vediamo alla prossima. E... Ciao ciao. Ciao ciao.